E hai venduto l'albergo, ragazzo? Oh, basta! Non rompete le palle! Io me li mangio, questi! Insomma, avrai che farei? Un produttore, signore, un produttore. Che cosa ci manca a noi? La bravura. La popolarità. Tutte e due. Ovvio. Ma è chiedibile. Ciao, bella! Tutto bene? E tu che cazzo sei? Organizzerebbero una rapina in acqua. Ti devi fidare di loro. Ehi, amiamo, amore, lo sai, gli strunzi, amore. Una rapina in banca? Ma che sei scemo? Ma pittà, amore, a sto per... Che bella situazione di merda, eh? Secondo me, questa è una truffa. Andiamo avanti. Allora, riceviamo. Truffa. Allora, riceviamo. Allora, riceviamo. Allora, riceviamo. Allora, riceviamo. Allora, riceviamo. Allora, riceviamo. Grazie a tutti.